Diversi uomini hanno perso la vita nella disperata ricerca di Amunaptra, molti non sono mai tornati. Credo che tu abbia trovato qualcosa. È chiamata la porta dell'inferno. Oh mio Dio, allora esiste. Avete liberato una creatura che temevamo da più di 3.000 anni. Egli è un portatore di morte. Niente lo fermerà mai. La Universal Pictures vi invita a vivere un'avventura straordinaria. Oltre la vita e il tempo. Attacchi! L'uomo, l'uomo vetti! L'uomo, l'uomo vetti! L'uomo vetti! L'uomo vetti! Grazie.